buongiorno a tutti carissimi amici nel video di oggi parliamo di fang che cosa sono i fang più apple non sono altro che un acronimo per rappresentare una serie di titoli dell'estino nasdaq che ormai rappresentano da soli il 25 per cento del mercato i titoli in oggetto sono apple facebook amazon microsoft e google attenzione parliamo di aziende molto molto valide molto interessante con ottimi bilanci però come tutte le aziende c'è comunque un prezzo al di sopra del quale quell'azienda è sopravvalutata questo è il momento di queste aziende soprattutto questa deviazione cioè il fatto che queste aziende rappresentano il 25 per cento da sole del mercato nasdaq che sicuramente non è un mercato orionale è un qualcosa che ci fa molto riflettere che evidenzia proprio la deviazione ossia i grandi investitori nel corso degli ultimi anni non sono più persi andare a cercare delle piccole aziende che hanno un reale valore che hanno una prospettiva di crescita ma semplicemente se volevano investirne in nasdaq pescavano in una di queste aziende tanto poi crescono comunque o anzi magari lo fanno anche meglio del settore quindi che cosa succede che abbiamo le quotazioni nasdaq che sono veramente molto molto elevate e il 25 per cento nelle mani di queste cinque aziende quindi il momento in cui il mercato nasdaq comincerà a scendere sicuramente queste aziende dovranno soffrire più delle altre per quale motivo per il semplice fatto che sono oggi sopravvalutate per questa distorsione diciamo di chiamiamola distorsione di pigrizza da operatore e quindi bisogna fare molta attenzione a detenere queste aziende che ripeto sono aziende ottime quindi che cosa succede dal punto di vista pratico dal punto di vista operativo per chi volesse investire queste aziende sicuramente non è questo il momento di farlo bisogna attendere dei forti ritracciamenti di prezzo per chi detenesse in portafoglio il mio consiglio è quello di o chiudere prendere profitto o mettere degli stop estremamente stretti che possono andare a tutelarci in caso di discesa dei prezzi perché ripeto attenzione nel momento in cui il mercato nasdaq deciderà di scendere e lo farà perché se noi guardiamo l'inclinazione praticamente verticale dei prezzi sarà destinato a farlo questi titoli saranno titoli che soffriranno più di altri quindi fate molta molta attenzione non vi innamorate di un titolo ma tenete conto che come tutte le aziende fisiologicamente ci devono essere dei momenti di ritracciamento come sempre spero di essere stato utile vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao